Salve a tutti e benvenuti sul canale Creare con Sudest. In questo video tutorial andremo a realizzare una sciarpa, una sciarpa da donna con un punto traforato delicatissimo, molto molto bello. Abbiamo il filato nella lavorazione veramente sottilissimo, però credetemi ne vale la pena lavorare con il filato così sottile per ottenere appunto questo risultato così morbido e meraviglioso. Per realizzare questa sciarpa ho utilizzato sei gomitoli di filato perlata da Australia lana gatto. Qui abbiamo 100% merino extra fine, un filato molto ritorto, diciamo quasi un effetto cotone, un filato considerato a quattro stagioni detto anche lana coralina. Veramente molto ritorto, si lavora con i ferri del numero 2,5 e 3. Io ho utilizzato i ferri del numero 3 per realizzare la sciarpa. Il gomitolo 50 grammi, 233 metri. Come ho detto in tutto sono soltanto 6 gomitori per realizzare la sciarpa di una misura 34 cm di larghezza e 2 metri di lunghezza. Il filato come sempre potete acquistare nella nostra merceria Sudest, giù nell'info box troverete il link della merceria. Inoltre troverete il link di gruppo Facebook Creare con Sudest dove potete iscrivervi e condividere tutte le vostre creazioni con noi. Per chi preferisce invece seguire gli schemi trascritti, sempre giù nell'info box troverete il link del pdf dove potete andare a scaricare la descrizione della sciarpa insieme allo schema. Quindi detto tutto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, non dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi tutorial in uscita. E adesso passiamo al tutorial. Dunque la sciarpa vi mostro soltanto un piccolo campione perché è veramente facilissima. Andiamo a avviare con i ferri del numero 3 104 maglie. Quindi li andremo a posizionare. La prima maglia sarà la maglia di vivagno, dopodiché 3 maglie saranno lavorate a punto legaccio. Poi ci sono 96 maglie per il multiplo, il multiplo è composto da 16 maglie e sarà ripetuto per 6 volte. Al termine del ferro ci saranno 4 maglie finali e sono 3 maglie a punto legaccio più l'ultima maglia di vivagno. Io ho avviato 16 maglie del nostro multiplo più 2 maglie di vivagno, quindi per mostrarvi come bisogna realizzare il multiplo. La sciarpa sarà lavorata immediatamente a partire con il punto, quindi non ci sarà nessun bordino. E anche a chiusura sciarpa non ci sarà nessun bordino, andremo a chiudere direttamente tutte le nostre maglie. E ora realizziamo insieme il punto. Come ho detto voi avrete 6 multipli sui vostri ferri. Io ne ho un multiplo, voi lo ripetete per 6 volte. Quindi andiamo a realizzarlo insieme. La prima maglia della sciarpa avrete la maglia di vivagno. La vivagna si passa da un ferro all'altro senza lavorare. Il filo si trova dietro al lavoro. Dopodiché abbiamo il multiplo. Voi avrete naturalmente prima i 3 punti a legaccio. Io parto direttamente dal multiplo. Il multiplo è composto da 16 maglie. La prima maglia è la maglia a rovescio. Dopodiché 3 maglie diritte. 1, 2 e 3. 2 maglie insieme lavorate a diritto prendendoli da davanti ai ferri. Quindi le maglie lavorate all'italiana. Una maglia diritta. Una gettata. Due maglie rovescio. Una gettata. Una maglia diritta. Una cavallata semplice. Passiamo alla prima maglia senza lavorare. La maglia successiva si lavora a diritto. e si accavalla la maglia precedente. 3 maglie diritte. 1, 2 e 3. Una maglia a rovescio. Terminato i 6 multipli in lunghezza della sciarpa. Andrete a lavorare 3 maglie di legaccio e il vivagno. Il vivagno, l'ultima maglia, si lavora a rovescio mettendo il filo sotto al ferro. Giriamo il lavoro. Il secondo ferro e tutti i ferri pari si lavorano tutte le maglie come si presentano tranne il bordino che sarà lavorato a legaccio. La prima maglia si passa da un ferro all'altro senza lavorare. Il filo si trova dietro al nostro ferro. Quindi lavoro tutte le maglie come si presentano lavorando il diritto sul diritto, il rovescio sul rovescio. Le gettate saranno lavorate a rovescio. Così sarà lavorato in tutti i ferri pari. Quindi 2, 4, 6 e così via. Il terzo ferro del nostro multiplo. Io ho il vivagno e quindi il multiplo. La prima maglia è la maglia di rovescio. La 2 maglie diritte, quindi 1 e 2. 2 maglie lavorate insieme prendendoli da davanti ai ferri. Una maglia diritta, una gettata, una maglia diritta, due maglie rovescio, una diritta, una gettata, una maglia diritta, una cavallata semplice. Due maglie diritte, una maglia rovescio. Il quarto ferro si lavorano tutte le maglie come si presentano. Quindi il diritto sul diritto, il rovescio sul rovescio. Il quinto ferro del nostro multiplo. Una rovescio, una diritta, due maglie lavorate insieme a diritto prendendoli da davanti ai ferri. Una maglia diritta, una gettata, due maglie diritte, due maglie rovescio, due maglie diritte, una gettata. Una direttata, una diritta, una cavallata, una diritta, una rovescio. Il sesto ferro, come sempre, tutte le maglie come si presentano. Come potete vedere, il disegno è davvero molto molto facile e credo che sia adatto anche per i principianti. Il settimo ferro del nostro multiplo. Una maglia rovescio, due maglie insieme lavorate a diritto, una diritta, una gettata, tre maglie diritte, due maglie rovescio, tre maglie diritte, una gettata, una cavallata, no scusate, una gettata, una diritta, una cavallata, una rovescio. Ottavo ferro e si lavorano tutte le maglie come si presentano. Quindi il nostro multiplo è composto soltanto da otto ferri in altezza. Il multiplo va ripreso sempre dal primo all'ottavo ferro, dal primo all'ottavo ferro, fino a quanto non andate a raggiungere circa due metri di lunghezza totale della vostra sciarpa. Una volta realizzati i due metri andremo a chiudere tutte quante le maglie. Per fare ciò lavoreremo due maglie insieme, quindi semplicemente prendendo due maglie insieme, lavorate a diritto, la maglia ottenuta va riposizionata sul ferro sinistro. Quindi rientriamo di nuovo dietro alle due maglie, da dietro ai ferri, lavoriamo insieme a diritto, riposizioniamo la maglia, entriamo attraverso due maglie e lavoriamo insieme. Quindi faremo così fino a quanto non andremo a esaurire tutte quante le maglie sul ferro. Ecco il punto, facilissimo, con un bel effetto finale, la sciarpa è bella morbida, potrebbe essere un ottimo regalo non solo per noi ma anche per chi ci è vicino. Con questo penso che possiamo concludere il nostro tutorial. Come sempre grazie mille per avermi seguito e ci vediamo nel nostro prossimo tutorial.